Vero? Gentile No ma l'hai detto soprattutto con aria nordica perché uno del nord arriva e fa Perché noi in Sicilia non parliamo Sicilia Traduci No Si può fare Cioè vieni qua Cioè che vuoi Fatemi Scusate non ricordo Che dobbiamo fare? Fate un applauso di incoraggiamento più che altro Scusate scusate Fermi un attimo Ti ricordo una cosa Che siamo Due siciliani e uno nordico Fermo L'orchestra è siciliana E non italiana Quindi Calmino Fai una bella introduzione Posso introdurvi? Si gentile con i tuoi cari colleghi Perché ti vogliono tanto bene Grazie Si però fai una cosa veloce perché a noi piacciono le cose rapide Le cose solerte Solerte si Ma non ti intimorisci Ignazio Come si dice signore 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 come si dice signore 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 E' tanto semplice signore signore tutti signore 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 Ti tengo a dire una cosa bella Prego prego Movi ti per Nel 2016 abbiamo avuto l'onore di cantare a Piazza Santa Croce a Firenze facendo un tributo ai tre tenori E con noi c'era il grande maestro Plasido Domingo che dirigeva anche l'orchestra E' stato una delle emozioni più forti della nostra vita, della nostra carriera E Ignazio e Piero canteranno per voi una delle aree, una scusate, una delle canzoni più famose del repertorio napoletano Tratta appunto da quel concerto e tributo ai tre tenori Coro in grato Ignazio e Piero